Serena Bortone l'ha fatta grossa. La Rai ha preso un duro provvedimento? Bianca Berlinguer non verrà sostituita dalla conduttrice di oggi è un altro giorno. L'ultimo scoop Martedì scorso sono stati presentati i palinsesti Mediaset della prossima stagione TV E una delle novità più importanti è legata all'approdo della conduttrice di carta bianca su Rete4 Di fatti quest'ultima condurrà un programma tutto suo sulla cadetta Mediaset, e poi si alternerà con Nicola Porro e Augusto Minzolini alla guida di Stasera Italia In tanti ovviamente si sono chiesti chi prenderà il posto lasciato vacante dalla giornalista su Rai3 In base alle indiscrezioni raccolte dal portale tvtvblog.it pare che la maggiore indiziata fosse Serena Bortone. Ma proprio in questi ultimi giorni ci sarebbe stato un clamoroso dietrofront da parte della Rai Serena Bortone non prenderà il posto della sua collega passata a Mediaset. Svelato il presunto motivo TVblog.it. Dopo aver rivelato che la conduttrice di oggi è un altro giorno non dovrebbe prendere il posto di bianca Berlinguer passata ufficialmente a Mediaset. Ha anche colto la palla al balzo per svelare il motivo Qual è? Pare che la Rai non abbia per niente gradito il discorso che ha fatto la Bortone alla fine dell'ultima puntata del suo programma pomeridiano sulla prima rete nazionale Per tale ragione l'azienda pubblica avrebbe deciso di non darle più questa possibilità Un discorso i cui toni non sono piaciuti alla nuova dirigenza Rai. Ecco che l'opzione Serena Bortone nel martedì sera della terza rete è saltata Non ci saranno però ulteriori ripercussioni sulla Bortone. La quale continua sempre ad essere al centro dei rumor Chi sostituirà la giornalista passata a Mediaset? Tutti gli ultimi rumor Quindi se non sarà Serena Bortone a prendere il posto di bianca Berlinguer chi ci sarà? TVblog.it ha dapprima fatto sapere di essere venuto a conoscenza che al martedì sera su Rai 3 non dovrebbe approdare Massimo Giletti Il quale è ormai in rotta con la 7 già da mesi. E successivamente ha rivelato che al momento la Rai pare non abbia preso alcuna decisione in merito E non dovrebbe decidere a breve Ai palinsesti Rai non verrà annunciato nessun nome rispetto al dopo Berlinguer su Rai 3 La decisione verrà presa con calma e le valutazioni sono in corso Ovviamente al posto della Berlinguer, come ha fatto notare il portale televisivo di blogo, servirà un nome di peso che dovrà tenere testa E magari mettere in difficoltà, la guerrita concorrenza rappresentata da Giovanni Floris con il suo di martedì sulla 7 Sì